Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi portiamo la profile Mysterium nella versione ovviamente alpha Bisogna dire che il mazzo è molto molto interessante Non mi sono mai divertito così tanto a giocare Però il problema è che gli manca un po' di consistenza Ed è abbastanza fragilino Spero, si dice, dovrebbero esserci altre carte Mysterium Spero che sia qualcosa per dare un po' di consistenza al mazzo Questa è la versione con cui mi sono trovato meglio Devo essere sincero è stato difficile testarlo perché molti quittavano Quindi quello che sono riuscito a testare comunque è questo qui Mi sono trovato veramente molto bene Ci stanno un sacco di varianti con i mascheteer Poi ci sta la versione con le granate DD Quindi c'è un sacco di roba Tra l'altro mi sono anche beccato necromolto Quindi un paio di volte Quindi ogni volta le carte serie andavano a ribischiare dei maschi E' stato fighissimo E' molto 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 irritante Vabbè, prima di iniziare come sapete vi iscrivetevi Nostro canale basso il link in social descrizione Andiamo a vedere la lista Praticamente ho messo tutte le Mysterium di 3x Perché sì, sembra folle Ma in realtà la maggior parte delle carte servono Perché se non ce l'hai tu non riesci a riciclarti bene le carte Allora, gioco l'1x nel Need of Warm, Flippy e Magine 5 all'oppo Sì, alla fine l'1x è stato abbastanza discretuccio Quindi ho detto lasciamola E' una di quelle tecce che io ho voluto lasciare Si potrebbe anche non mettere 3x della terreno che è fuori di testa Perché ti permette di attivare le carte Mystery 1 e Quick Spell Dalla mano Quando le attivi puoi riciclarti fino a 3 carte Quindi anche 2 Una, quella che avete al cimitero di Mystery 1 e Quick Spell Metterele in fondo al mazzo E pescare altrettanto un numero di carte fortissimo Nessent of the Mystery 1 è un'altra carta molto forte Perché ogni qualvolta si rimuove una carta Lui praticamente Cioè ogni qualvolta viene attivata una Quick Spell Lui rimuove la prima carta del mazzo dell'avversario E ho visto molti liste Che in molti liste giocavano anche i Cosmic Cyclone Per questo 3x Mystery 1 e Strike Ovviamente ogni Mystery 1 poi Qui che ti fa giocare un mostro all'extra Oltre al primo effetto Targettiamo praticamente una Spell Trap dell'op Gliela spacchiamo E gli immaciniamo 4 rimuovendo Oppure giochiamo il mostro fusione Non sempre serve Ma molto spesso mi è stata tantissimo utile Soprattutto poi per magari attivare quella Quick Spell Per poi andarmi a riciclare le carte del mazzo Quindi molto buono Questa l'ho messa in 2x perché è stata quella che Ho utilizzato di meno Praticamente quando l'oppo ha da carte Gli scarti 1 e poi gli rimuovi 2 carte In cima al mazzo Quella che ho utilizzato veramente di meno E quindi ho deciso di toglierne una Perché un po' Così mi giravo meglio Con meno copie Poi il 3x del Mystery 1 of Slumber Targhetti praticamente un mostro sul terreno La prima volta sta per essere Spaccato in battaglio Per effetto non viene rotto Quindi molto interessante E poi rimuove 3 carte all'ammazzo Molto interessante perché puoi attivarlo Anche a un mostro dell'avversario Gli immagini comunque 3 Che è un numero molto buono Poi questo è lo spacchino Di vostri Evocati Special Magina 2 Il leghino di mostro Che poi magina 3 La carta migliore Cioè la carta migliore insieme Poi andremo a vedere che È un laddino Ma questa è una delle carte migliori Perché l'oppo pesca 1 E poi magina 4 Forte Fortissimo La cosa brutta è che se l'oppo Non ha abbastanza carte nel deck Tu non gliele puoi maginare Per esempio se ha 4 Se ha 2 carte E tu hai la carta magia Per macinargli 3 Non gli puoi attivare l'effetto Quindi questo potrebbe essere un problema Poi il martello di Thor Che mandisce tot carte In cima all'ammazzo Pare il numero di carte Che controlla l'oppo Molto utile perché ci sono Un botto di catene Quindi quando l'oppo Magari ti attiva una carta magia Tu glielo puoi Attivare risposta Perché così l'oppo Magari ha una carta in più E gli mandisci quelle carte Molto molto utile Poi l'addino Che è fortissimo E tanto è Poi il 3x Di duality Perché comunque ti serve Ti serve pescare Allora Ho giocato extravagance Ma molto spesso Mi bandavo anche le fusioni E non è che Mi facesse Impazzire questa cosa Duality ti impedisce Di giocare le fusioni Ma comunque Puoi farlo Attorno all'avversario Quindi Ci sta Poi tu ti guardi Le prime 3 carte Dell'ammazzo Quindi poi ti decidi Un attimo Quello che ti puoi Addare Un giorno di pace Perché ti fa guadagnare Un turno Entrambi i giocatori pescano Quindi anche l'oppo Magari si toglie una carta Dal deck Fino alla fine del prossimo turno Nessun giocatore Subisce danni Quindi Te la cavi Sarebbe carino Vettere anche Fuori dal mondo scuro Magari in 3x Però Bisogna vedere Qualche Quale Mystery Togliere Perché alla fine Servono Perché se non le avete In mano Sono dolori Terraforming 3x Della Trickstar Reincarnation Che è fatale Stagia Fortissima 3x Della Crest Fortissimo Fortissimo Perché dici Che ci fai Fortissimo Perché Potenzialmente Tu ti peschi sei Ma A differenza magari Tipo che ne so Dell'air Tu quelle carte Già te le puoi utilizzare Dalla mano Se hai la terreno E vabbè che non peschi Però finché puoi utilizzarle Puoi Riciclartele Con la terreno E quindi riuscire Comunque a pescare Ma Ti permette Nel turno dell'oppo Se riesci a girartela E pescare sei Gli puoi anche Chiudere la partita Perché magari Togli le ultime carte Del mazzo Tocca a te Non peschi i passi E vinci Quindi è una carta Veramente forte Qua dentro E la storming E la storming Perché ti salva All'anima Quanti dragoni Ho tolto Con questa storming Eh Ne ho tolti due Ce ne erano due In campo Perché Mi calavano solo Red Dead Fusion Giocavano solo Con Red Dead Fusion Tutti in mano Sei Tutti in mano Poi vabbè Ci sono altre carte Che potrebbero essere Inserite come Appropriate Quando l'oppo Pesca carte Al di fuori All'offase Pesca altre due carte Quindi provi a Immaginare gli deck Pescando La Anchor Non per forza E non per forza In battle phase Il battle feather Per bloccare Un attimino Gli attacchi La trickstar Per radare La trappola E la biblioteca Reale magica Per permettervi Di pescare Però in realtà Io lo trovo da Ultra pesante Ma tantissimo Quindi Non la consiglierei Andiamo di extra Con il 3x Delle fusioni Allora Lui che non può essere Quando viene avvocato Ti permette di aggiungerti Una carta Non quick spell Dal cimitero alla mano Potrebbe essere Molto interessante Non può essere Stratto dagli effetti E quando viene rotto Spacca una carta Questo potrebbe essere Fondamentale Quindi è stato Molto forte Poi vabbè C'è lui Che è praticamente Lo starter Perché ti permette Di prendere anche La spell Continua scartando Una carta Ciò ti permette Di avere comunque Un tot di carte Al cimitero Per ripornare Le carte Con la Terreno Molto forte Può annegare Tot effetti Quando vengono Attivi Quando l'avversario Attiva un effetto Che targetta Nelle carte Misterium Lo mandi al cimitero Negli effetti Lo spacchi Molto buono E ogni end Guadagni mille E poi Qualche link Io ho messo Qualche link Per Scapegoat O magari Qualche roba Di costo Tipo che ne so Linkspider Linkuribus Security Dragon I Nightmare E Zeroboros Si può un po' Per ogni carta Bannata Capirai Altro che Desaes Capirai Tantissima roba Però comunque Questo è Ma la maggior parte De volte Vi troverete Penso a giocare Soltanto le fusioni Detto questo Questa era la lista Alpha Sicuramente Sono sicuro Ci saranno versioni Più forti Io ho improntato Ad utilizzarlo Praticamente Puro Al momento Ho avuto Un descritto Ratio di vittorie Ma ovviamente È migliorabile Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti